Siamo tornati su questo nuovo tutorial a parlare di nuovo di Valorant, di alcuni errori che escono fuori così su Windows 10 e 11 Quindi ho ricevuto parecchi commenti su alcuni video che ho fatto su Valorant per risolvere gli errori Per esempio quasi l'ultimo video su come aggiustare l'errore 1067 su Windows Questo video ve lo garantisco che ha funzionato a me perché io ho avuto problemi a risolvere questo errore Quindi cosa ho fatto? Ho attivato il security boot state sulla scheda madre Quindi molti commenti hanno detto ma io come faccio ad attivare questo security boot? Qui c'è la guida, se io non ho questo security boot come faccio ad attivarlo? Trovalo, cercalo nella barra della ricerca e trovalo Basta, sta là, sta là, dovrebbe stare lì e basta Quindi se andate anche su sign steam information qui potete vedere tutto Tutti i vostri componenti, la memoria, memoria virtuale Pure dove sta lo stato avvio protetto Questo è il security boot state A me è attivato Quindi che significa? Se ce l'avete attivato potete giocare a Valorant senza questo problema del 1067 Quindi se invece andiamo anche su servizi Quindi ragazzi io vi consiglio di guardare quel video E questo qua mi raccomando di fare attenzione Scendere fino a giù e cercare il servizio VGC Cliccate sopra Da manuale mettete automatico Applicate Fate ok Riavviate il pc E andate sulla vostra scheda madre E cercate il security boot state Perché io nel video Questo qua Dove sta? Quello che ho fatto è ho scritto security boot Me l'ha trovato E l'ho abilitato Molto semplice Ok? Molto semplice E l'ho abilitato Ho premuto F10 Ho salvato tutto Poi si attiva anche tpm state Se ce l'avete sulla vostra scheda madre Basta che lo scrivete tpm stato Cliccate sopra E lo abilitate Quindi se avete bisogno Io vi mando due guide Sia su come attivare tpm Sia su come risolvere questo errore 1067 Sia come attivare security boot state Ok? Quindi se non dovesse funzionare Andiamo su Windows Update E vediamo se dobbiamo fare qualche aggiornamento Verifica disponibilità Aggiornamenti Vedete se vi esce qualche aggiornamento da fare Chiudete qua Andiamo Su impostazioni L'ho fatto anche nel video precedente Di riparare Valorant Quindi Come ho detto Se avete problemi Questa cosa Voi quello che dovete fare È attivare questo security boot Ok? Dovete attivarlo Per esempio che ne so Andate anche su youtube Cercate la vostra scheda madre Vedete tutte le caratteristiche Le specifiche Della vostra scheda madre Vedete se c'è questo security boot Come ho detto Su system information Qua sopra Su Dove sta? Stato avvio Prodetto che è il security boot Attivato Se qui c'è scritto disattivato Tu Cerca la tua scheda madre Qua Prodotto scheda di base B450 Gaming Plus Che è la mia Cerchi la tua Cerchi tutte le caratteristiche Specifiche E vedi Se riesci a trovare il security boot Attivalo Poi fai quel sistema del VGC Su automatico Come ho detto prima Su servizi Andiamo fino a giù VGC Automatico Fate ok Poi come ho detto Se non dovesse funzionare Fate un aggiornamento E riparate anche Valorant E riavviate del tutto il PC Perché io fino a qua Ragazzi veramente A me ha funzionato Quando ho attivato il security boot Più il TPM da attivare Quindi che vi posso dire di più Grazie a tutti per questa visione Ragazzi io veramente Spero tanto Che vi sono stato veramente d'aiuto Se avete problemi Entrate nel server Discord E noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao Ciao